capitolo 8 voglio la mamma se la nostalgia era il portale per tornare giovani mi sentivo come se ebbe lo avesse aperto e me lo avesse fatto oltre passare a calci avevo dolori dappertutto allo stomaco e alla schiena mi facevano male muscoli che nemmeno sapevo di avere il cervello premeva quasi fosse troppo grande per il cranio ero sdraiato per terra e percepivo la moquette ruvida e appiccicosa sotto le braccia quando mi rimisi seduto mi senti fiacco e leggero come se qualcuno mi avesse fatto una trasfusione di elio liquido annabeth era distesa alla mia sinistra e cominciava a muoversi grover era a faccia in giù a pochi metri di distanza e russava contro la moquette eravamo vivi non eravamo stati trasformati in lustreni né in biglietti premio della sala giochi ebbe era scomparsa però c'era qualcosa che non andava avevo le mani troppo paffute e i pantaloni troppo lunghi con i risvolti flosci sulle caviglie non capì cos'era successo fino a che annabeth non si tirò su a sedere con un gemito anche lei nuotava in vestiti troppo grandi e il viso ovvio riconoscerei il viso di annabeth ovunque amo i suoi tratti ma quella era una versione di lei che non avevo mai visto tranne in alcune vecchie foto in qualche visione onirica era la annabeth arrivata da poco al campo mezzosangue regredita più o meno all'età di otto anni si strofinò la testa e mi fissò con gli occhi spalancati poi si lasciò sfuggire un'imprecazione che sulla bocca di una bambina di terza elementare suonò decisamente fuori luogo ebbe ci ha ringiovaniti grover si sedette e si strofinò la testa a sua volta le corna si erano ridotte a piccoli monconi il pizzetto era scomparso i piedi finti e le scarpe si erano staccati dagli zoccoli improvvisamente tagliababy e la camicia era così grande che sembrava un camicione da notte non mi sento tanto bene si tolse un filo di formaggio dalla faccia poi si guardò gli zoccoli e gemette oh no non voglio essere di nuovo piccolo non sapevo se intendeva un piccolo di uomo o un piccolo di capra probabilmente entrambi grover mi aveva spiegato che i satiri maturano a velocità dimezzata rispetto agli umani il che significava moltiplicato per due riporto di uno diviso per non importa avrei tenuto la matematica per i compiti se mai fossi tornato a casa magari se usciamo da qui ci ritrasformiamo suggerì annabeth si alzò tremante era strano veder la bambina mi venne l'irrazionale paura che urlasse che schifo ma schiacci brutti e cattivi e mi piantasse in asso invece disse dubbiosa vale la pena provare così riattraversammo il salone principale quando ripassammo davanti al pollaio le galline ci guardarono con rinnovato interesse non sapevo nemmeno che i polli potessero sembrare interessati ma quelli piegavano la testa chiocciavano e sbattevano le ali uno dei pulcini in particolare che aveva della lanugine rosa intorno agli occhi al becco ci seguì pigolando tutto impettito lungo la recinzione che maleducato disse grover perché minaccia di strapparci la carne dalle ossa guardai nervosamente il pulcino ok baby killer tranquillo ce ne andiamo all'improvviso grover mi puntò abbassò la testa e mi colpì al petto abbastanza forte da farmi indietreggiare di un passo aia protestai che ti prende scusa scusa si strofinò le corna io io devo giocare mi sto esercitando nel predominio sociale nel branco e mi colpì di nuovo per fortuna è un gioco che diventa vecchio in fretta dissi ora come ora diventare vecchio in fretta mi piacerebbe un sacco fu il commento di annabeth proseguiamo nessuno dei clienti ci prestò attenzione immagino perché eravamo solo tre bambini come tanti altri nella folla cerca i sparchi o qualcuno in uniforme da dipendente ma non vedi nessuno allora mi concentrai sulla ricerca dell'uscita sebbene ogni trillo o luce lampeggiante nella sala attirasse la mia attenzione allettandomi con la tentazione di provare i giochi essere affetti da iperattività e deficit dell'attenzione è dura ma in quel momento ricordai quanto fosse stata ancora più dura quando ero piccolo prima di imparare a canalizzare la mia attenzione controllare l'irrequietezza o anche solo gestire il corpo per gli scopi pratici avere di nuovo otto anni era terrificante l'idea che avrei potuto dover rivivere di nuovo tutti quegli anni senti gli occhi che mi si riempivano di lacrime volevo la mamma ricacciai giù il senso di panico come meglio potei l'uscita trova l'uscita e basta nessuno cercò di fermarci nessuno aveva messo lucchetti alle porte semplicemente uscimmo di nuovo nella luce del sole pomeridiano di times square ed eravamo ancora bambini afferrai il braccio di grover per impedirgli di prendere a cornate un artista di strada in costume da topolino e adesso domandò annabeth con voce tesa non possiamo tornare a casa così quando annabeth chiede consiglio so per certo che le cose vanno proprio male è lei quella che ha sempre un piano inoltre casa per lei era una stanza del dormitorio della sodnik decisamente non poteva presentarsi ringiovanita di nove anni andrà tutto bene dissi mi guardò cupa davvero allora sei scemo si portò le mani alle tempie scusami persi non riesco a pensare normalmente temo che ebbe non abbia modificato solo il nostro aspetto capivo cosa intendeva non provavo quel panico da parecchio era come se avessi mangiato una miscela di zucchero e vetro che mi avrebbe ridotto a pezzetti o fatto collassare dall'interno non ho nessuna intenzione di rivivere gli ultimi nove anni dichiarai torniamo dentro e troviamo ebbe e poi belò grover potrebbe trasformarci in neonati smettila lo sgridò annabeth no smettila tu cattiva io non sono cattiva sì che lo sei ragazzi li afferrai per le braccia e li separai questa faccenda la risolveremo dopo torniamo indietro stavo cercando di fare quello ragionevole un chiarissimo segno dell'apocalisse li riportai dentro le betudine anche se era l'ultimo posto in cui avrei voluto essere ci imbattemmo quasi subito in sparchi che senza il rotolo di biglietti premio sembrava molto più allegra ciao benvenuti alle betudine ci salutò di nuovo e sapete come muovervi eravamo qui poco fa le risposi solo più grandi questo non restringe il campo ci guardò con maggiore attenzione quanto più vecchi 50 80 stai parlando sul serio domandò annabeth ti abbiamo chiesto dov'era ebbe le ricordò grover ci ha indicato il bar karaoke oh giusto rammentò sparchi quei tre va bene allora divertitevi aspetta la fermò grover abbiamo bisogno di vedere di nuovo ebbe sparchi inarcò le sopracciglia cos'è volete diventare ancora più giovani quando ebbe ti benedice non bisogna diventare avidi io per esempio ho 65 anni mi ci sono voluti mesi di lavoro qui per ritornare a questa età ovvio sparchi era un'altra boomer nient'altro che una boomer di nove anni noi non vogliamo diventare più giovani provai a spiegarle vogliamo che ebbe ci faccia tornare come eravamo sparchi ci scrutò con cipiglio aspettate volete presentare un reclamo per l'età il modo in cui questa baby manager boomer mi guardò non mi piacque come se mi stesse per seppellire sotto dei buoni pizza prendi due paghi uno ecco è solo penso ci sia stato un malinteso noi vorremmo non resta lamentarvi sparchi si sganciò un megafono dalla cintura e annunciò a tutta la sala giochi abbiamo un reclamo per l'età la folla esplose in esulti urla e fischi molti ci sorrisero malignamente come se si aspettassero un bello spettacolo scatenate i predatori urlo sparchi che la caccia abbia inizio suonarono le campane del denaro passò di mano alcuni clienti scommisero su chi sarebbe caduto per primo se io annabeth o grover sembrava che i pronostici non fossero a mio favore avevo il battito a mille ma passando in rassegna la sala non riuscì a vedere nessuna belva assetata di sangue vogliamo solamente parlare con ebbe provai a insistere sparchi mi puntò il megafono in faccia e mi fece quasi volare via le sopracciglia forse lo farete se sopravviverete alla sfida buon divertimento abbassò il megafono e si allontanò dalle profondità del salone qualcuno urlò volò una sedia un flipper si rovesciò annabeth estrasse il pugnale che nella sua manina sembrò enorme grover urlò arrivano ne sento l'odore odore di cosa domandai non vedo e poi invece le vidi le galline stavano infuriando per la sala giochi di norma non userei la parola furia per descrivere il comportamento di una gallina ma quegli uccelli erano puro caos piumato sciamavano a decine sopra le macchinette rovesciavano i mobili strappavano la tappezzeria con artigli e becchi alcune planavano sulla testa delle clienti bombardando le acconciature altre strappavano dog dalle mani delle persone gli avventori delle betudine non sembravano preoccuparsene strillavano di gioia fuggendo da quell'apocalisse gallinesca come la folla alle corse dei tori in spagna quasi stessero pensando magari questi animali mi uccideranno ma almeno sarà una morte fighissima le galline puntarono dritte verso di noi con gli occhietti iniettati di furore tirai fuori la mia penna a sfera questi polli sono in cerca di guai e guai avranno che fu probabilmente la mia peggior battuta eroica di sempre e ancora più